E' onestamente ho paura, quindi non mi sento in sicurezza, mi sento attraverso il tapparello, attraverso il vetro della finestra, quindi se qualcuno ha notizie o vuole riportare la situazione del vento può farlo tranquillamente attraverso Instagram, grazie a tutti. L'aggiornamento, il vento fa un rumore circa come una MK B-Turbo, quello scarico fa un rumore invasivo, fa un rumore fuori dal comune per essere un vento normale. Grazie a tutti.